Il Presidente ha preso atto e ha registrato le criticità che gli abbiamo segnalato per quanto riguarda i lavori parlamentari, in particolar modo per le riforme costituzionali. In questo momento c'è un governo che col 27% del consenso popolare del 2013 sta imponendo delle riforme costituzionali, noi invece crediamo che bisogna iniziare un percorso di condivisione perché non valgono per noi queste riforme ma anche per le future generazioni. Poi abbiamo voluto segnalare anche questi decreti che continuano ad essere emanati, non vediamo per quanto ci riguarda come gruppo i motivi di necessità e d'urgenza e oltretutto alle Camere non è permessa una discussione nemmeno nelle commissioni referenti dopo la questione di fiducia messa dal governo durante la discussione in aula. Ovviamente ci auguriamo che il Presidente, anche con la sua opera di moral suasion, possa fare il possibile affinché anche il piccolo dittatore Renzi capisca che qui siamo ancora in una democrazia e non in una dittatura, oltretutto con un Presidente del Consiglio che non ha avuto nemmeno l'avvallo del voto popolare per ricoprire quel ruolo ma si è autoproclamato all'interno della segreteria del Partito Democratico.